wow bello quali sono il bellissimo video quest'oggi siamo su fire ragazzi per iniziare l'ottavo capito e direi di iniziare adesso ok ok c'è un volume a palla e ho dovuto abbassare perchè se no mi incoglionisco proprio ok iniziamo qui sono due barboni come possiamo vedere non ho idea di cosa dobbiamo fare adesso andiamo subito alla ricerca di qualcosa di sicuro ecco stavaggio checkpoint ok siccome abbiamo fatto tantissima strada ci fa fare il checkpoint qui ok siamo una specie di hotel no siamo in un hotel abbandonato quindi dobbiamo praticamente tutto il senso tutti gli user qua che tocca fa che proseguiamo a me sti posti mi fanno sicuramente abbastanza paura ci sono abbandonati tag life ok non niente andiamo avanti poi mi devi spiegare il frigorifero chi ce l'ha messo qua perchè c'è boh non lo so salvaggio c'è che vuoi in un altro salvaggio così proprio la raffica ogni 30 secondi c'è il salvaggio qua vediamo la luce perchè siamo passati qua un attimo vediamo se riusciamo ad aggirarli in qualche modo vediamoci anche la mina ce l'abbiamo già oh ecco subito il primo nemico lo facciamo fuori subito subito così proprio eccolo là antro tiriamo una bombetta salviamo le bombe non salviamo le bombe oddio questo che vuole togliti pezzo di merda dai 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 oh madonna ah stiamo zero bombe non salviamo nulla passati qua un attimo ok abbiamo questa arma qui ma cosa possiamo togliere ok facciamo una cosa prima uccidiamo quel ok così uccidiamo questo tizio ok perfetto io direi di prendere quest'arma adesso ok prendiamoci il giubbotto qui e proseguiamo la nostra avventura honey man no honey nabby table andiamo un po' se riesco a prenderlo bene in capo ok perfetto headshot bitch fuori oh donna faccia tipo ballava e evitava tutti i colpi no c'era questa troppo strana ok eccoli 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 che arrivano pezzo di merda abbastarsi ok no mori oh e va mori donna io ho un filzato in capoccia ok di qui non possiamo credo saltare per almeno che non siamo dei ginici professionisti ok però qui c'eravamo già quindi forse dobbiamo scendere giù per forza ok vediamo un po' questo posto è immenso ok finalmente due granate che non sono granate normali ma c'è mi sembra come mi sembra di aver capito perché ci sono nomi strani ok ok qui ci sta un kit medico che prendiamo qui altre ci sono un po' di munizioni oh ma perché mi sei spegnita sola sta torcia mannaggia la miseria tu mi fa incazzare un ascensore con una sedia dentro siccome ci sono tantissimi piani qui la gente si metteva seduta ok siamo nell'esterno qui e ok entriamo subito perché fa freddo fuori oddio santo quanti ce ne stanno ok ok perfetto ma devi morire dei ok mori 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 perfetto ok molto molto bene ok ci curiamo e prendiamo questo kit medico io direi visto che siamo più che altro spazi chiusi di usare il fucile a pompa visto che gli spazi chiusi è veramente il top del top questo gioco veramente stimola la cifra la memoria perché senti il grandito oddio che cos'è che cos'è che cos'è oh mio dio oh mio dio oddio santo questo corre pure oddio scappa scappa togliiti togliiti no fanno passare togliiti di mezzo cristo santo curati ok su cosa gli sparo questo madonna è grosso madonna santa cos'è un mech cos'è madonna madonna non è grosso togliiti madonna questo spacca i muri oddio santo muori ok danneggiato ragazzi perché sta scendendo tutto oddio sto a morire ho pensato un tipo di stutto perché oddio è esploso meno male perché mi sono cagato sotto mi sono cagato era immenso quel coso che poi mi stava aspettando mi stava ci suono quanto mi ha in colpo ok entro da oggi circa voi già il terzo siamo soltanto a io sono a 6 minuti di registrazione ma non so dopo aver tagliato a quanto quanti quanto minutaggio siete che termine che cos'è questo un nuovo nuovo arma quindi togliamo questa anche perché sta finendo ah guarda questa qua è il classico cannone che avevamo prima ciao ragazzi come va ti affosto ah non è riuscito a scappare quello un pezzo di merda copritevi copritevi perché fa freddo ragazzi quindi quindi non so se possiamo saltare credo che dobbiamo scendere che cos'è la donna la gente che c'è muori i cecchini col cannone ragazzi penso sia la peggior cosa che mi poteva capitare no la peggior cosa penso sia stata quel cazzo di mostro qui dobbiamo saltare io ci provo ma insomma molto fiducioso questo è uscito all'ultimo pezzo di merda se mi sparava mentre saltavo lo sicavo troppo ok qui dobbiamo saltare ma non mi fido tanto non so se ce la faremo si ci abbiamo fatta bene molto molto bene dai 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 stiamo andando bene adesso c'è un altro cecchino qua c'è un altro cecchino madonna è più dei cecchini raga troppi 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 allora dobbiamo trovare una tattica qui allora dobbiamo andarci dalla porta innanzitutto avvicinarci il possibile verso le finestre ok qui ci guichiamo ok sono là sopra due e due c'è la sinistra che stanno sparando in questo momento ovviamente dove sei eccolo muori ok uno è crepato l'altro ce stiamo quasi dove stai donna raga madonna ci puliamo qui se vogliamo proviamo un attimo ad andarcene ok salve e voi morì mannaggia la miseria era indeciso non sape se morì o no quanti ce stanno ogni finestra ce stanno cecchino ma che è sta cosa ma muori idiota questi questi ma no ma che c'è nelle maschere ma che cazzo è per i dei muori sto morì sto morì pure io mettiamo il rallenty qui crepiamoli riempiamoli di pombo di pombo di pongo riempiamoli di pongo no riempiamoli di piombo qui ok perfetto ok molto bene molto bene questi sono tutti i fucili overpower tranne questo che questo è un poveraccio ok stiamo per finire le munizioni del mitra e questa cosa mi preoccupa questa musica non mi piace nemmeno un po' nemmeno un po' qui sono quasi altri foglietti dove lo prendiamo ad occhi chiusi proprio qui si sta a un bagno abbastanza brutto ok adesso mi sto cagando sotto lo dico proprio sinceramente a cuore aperto ok no noi da qui ci siamo venuti ok facciamo tutto il giro così quindi noi dobbiamo andare verso di qua verso salve ma buono chi oh madonna ma quanto sono resistenti oh questo questo mi farà molto comodo energia aumentata e quindi ce l'abbiamo fino a 135 adesso ok credo che non sappiano la mia posizione in questo momento quindi posso anche togliere la torcia sotto c'è qualcuno non lo so salve da passo come va come va la vita come va come va ok no qui c'era il tavolino dobbiamo scendere per forza giù qui c'è un kit medico ce lo prendiamo che per essere cioè far comodo insomma e qui dobbiamo scendere credo si squadra copritevi qui sta a un letto senza materasso il materasso sta qui per farci scendere a noi pensavo che sono stati premurosi e organizza l'area industriale Rahm Mayer va bene che cazzo è è lei quella che giacate ha un buon profumo questo è tipo di sparo portaccio tua vampiro di merda ok adesso comincia non mi faccia dare una torcia quindi vuol dire che qui mi cagherò sotto oddio santo regà mi ha detto così tante cose dove stai? chi è che parla? è morta chi è? no non c'è sta più è sparita che succede? ma perché mi trasporta? oddio muori bambina di merda ancora là stai ma muori idiota muori oddio che è oddio che è donna santa oddio ma che sono sti voli che merda ok ma perché mi trasporta? ragazzi questo gioco fa cagare in mano cioè questo gioco è tipo del 2004 mi sembra fa veramente cagare sotto ok dobbiamo scendere qui ok abbiamo terminato qui ragazzi la prima parte dell'ottavo capitolo come sempre se questo vi è piaciuto vi lasciate un like un commento se ancora non lo siete iscrivetevi al canale iscrivetevi alla pagina di facebook al gruppo simile che trovate qui sotto in descrizione condividete questo video su facebook su twitter ragazzi dove volete insomma così tutti si cagheranno sotto insieme a me e noi ci vediamo al prossimo video come sempre poi questa è bella